3,2,1 si riparte anche quest'anno 2015 tour del fundraising che cos'è una cosa molto semplice 180 minuti 3 ore di lezione 3 ore di incontro su fundraising da 0 a 100 da 0 a 1000 non so quanto sarà comunque è per tutti aperto a tutti nelle varie città d'italia un giro di messi un altro per incontrare tutti quelli che vogliono sapere qualcosa di pandesi che imparare dentro il pandello fate voi se volete venire noi abbiamo scelto una serie di città quest'anno l'abbiamo fatta anche l'anno scorso e non so se riuscite a vedere andremo a torino a genova a bologna a padola andremo a reggio emilia ancona peruta e chiuderemo il giro a roma le date sono 2 3 5 9 12 16 17 e 20 ma ci divertiremo e andremo in giro allo scorso più di 2000 persone sono venute al tour del pandesimo numero 1 quest'anno lo ripetiamo andando in città anche più piccole per incontrare anche le piccole realtà le piccole organizzioni che ho provato quelle che hanno veramente bisogno di fare il pandesimo dal zero a mille e magari saremo contenti di incontrare anche come è successo allo scorso anche le grandi realtà che vogliono mettersi un po' a posto dal punto di vista metodo logico. Insomma è uno sviluppo della cultura del pandesimo, un aiuto al mondo non logico, è il nostro modo di contribuire allo sviluppo del pandesimo in Italia, un tour gratuito per tutti, otto tappe per divertirsi insieme, tre ore di lavoro insieme. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille, grazie a tutti!